L'importanza è data dal fatto che viviamo tutti in una comunità. Noi dobbiamo ricordarci sempre che indipendentemente dalle differenze che ci sono tra noi facciamo parte di una comunità e dobbiamo insegnare ai giovani che 35 anni fa non c'erano che cosa è stato un attentato al cuore di Roma, che ha colpito un figlio di Roma.